Il sistema adottato si era rivelato particolarmente efficace. La 23enne, infatti, attraverso un profilo social, aveva realizzato una vera e propria vetrina online utile per promuovere gli articoli da vendere. Scarpe, borse, felpe, abbigliamento sportivo di alcune delle marche più note ed importanti. Grazie ai post e dal passaparole il numero di clienti era cresciuto velocemente. La vendita dei prodotti promossi attraverso il profilo Facebook avveniva all'interno di un'abitazione. La guardia di finanza si era così insospettita del viavai di persone e le fiamme gialle, attraverso l'individuazione dei clienti e le successive contestazioni mosse, ha fatto poi irruzione nello stesso appartamento. All'interno 800 articoli di varie marche, tutti privi dei requisiti di sicurezza garantiti dalle produzioni di beni di merce originali, quelli previsti dalle normative vigenti a tutela del consumatore. I baschi verdi di Salerno hanno così sequestrato i prodotti rinvenuti e denunciato la 23enne che deteneva la merce ed affettuaria dell'immobile. Gli acquirenti invece rischiano sanzioni fino a 7.000 euro.